Cos'è una promessa? Una promessa è una garanzia, una certezza, nel sapere che qualsiasi cosa accada, ci prenderemo cura di te. Noi, di Armstrong Tires, la nostra promessa è una certezza nel nostro lavoro da oltre cent'anni. Investiamo per fare la differenza. Innovazione, tecnologia, persone. Ci impegniamo a rendere ogni gomma migliore e dimostreremo che la tua fiducia è fondata per fare arrivare te e la tua famiglia dove volete andare, sani e salvi. Le nostre gomme sono fatte per adattarsi alle tante strade europee. Vieni a conoscerci, ci prenderemo cura di te. La nostra promessa, Armstrong Tires.